Buonasera a tutti ragazzi E benvenuti in questo nuovissimo video Parleremo del venticinquesimo episodio di Jack il Rinnegato Che cosa andremo a fare qui? Beh il titolo c'è Jack contro Errol Ok? La gara con gli anelli Comunque vi auguro una buona visione Va bene? Si vede? Ok Continuiamo Spostati Sono troppo veloce per te Jack contro Errol Spostati Mamma mia Vabbè può capitare Ma mica Stiamo gareggiando Che dici questo Jack che vai farfugliando Che serve un'ultima L'aerol, raga Mamma mia, non dovevo Ho barato, vero? Eh, questo non è leale, ha ragione Ma solo all'interno Oh ragazzo Attenzione Mie, è forte Oh ragazzo Wow Oh ragazzo Aspettate Qua eravamo arrivati No, non l'ho preso Mi sono confuso Quello era l'ultimo anello Mamma mia Sì Vai Abbiamo vinto Non ti montare la testa, criminale La prossima volta faremo sul serio E la tua testa sarà il mio trofeo Aspetti, astruzione E abbiamo suonato Altro che Alla miniera Quando vado Dobbio tornare Ma se Non passa nessun veicolo Come ci vado Piedi Sto 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 Ancora! Mi ma qua, questo luogo è pieno di traffico eh! Lo puoi ben dire, c'è traffico! Qua! Guardate per degli stupi, dicevi le cose! Andiamo alla miniera, va bene! Ma quando è lontana la miniera? Qua, forse già ci siamo arrivati! No! Marinesi! Per favore! Fermo! Dannati civili che si mettono in mezzo alle strade! E' qui la miniera, raga! Qua una volta, raga! Guardate! Là il porto, che lo so! Qua ci doveva essere un bar! Ma a quanto pare non c'è in questa versione del gioco! Ok! Controliamo! Ma niente exerci! Ehi! Ehi, ecco il mio esaurito! Com'è l'ha con questo? Un ammasso di roba? Beh, una notizia buona e una grande! La buona è che Corby ha detto che abbiamo abbastanza energia per tenere gli studi alzati! Quindi per un po', la città è al sicuro! Però non so fino al fondo il sistema potrà reggere! E qual è la cattiva notizia? Abbiamo scovato un gruppo di uova di peste di metallo pronto a schiudersi nella miniera! Perciò dobbiamo tornare là e trovare un modo per distruggerle prima che si trasformino in un nuovo esercito di mostri! Ho visto che la glute ne va sollevato un grosso container di meccano! Se riuscissimo a saltare sul container potremmo lanciare giù la cassa, no? Solleva! Saltare su! Lanciare giù! Perciò un brutto presentimento! Coraggio, Tex! Su, andiamo! Si hai ragione, Jack! E' il momento di utilizzare il jetboard! Di nuovo alla miniera siamo arrivati! Dannazione! Era apparso una cosa del televisore! Ma dov'è che dobbiamo andare esattamente? Si può vedere dalla mappa? No! Forse è qua! Roarranotto! Perso del portano! Sì! No! Forse è il rato不過 tutto... Sì! Io! Sì, 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 sì. Grazie a tutti. 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 Vai! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.